Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di usare un emote come mistica dopo aver eliminato un giocatore. La sfida non è difficile, dovete semplicemente nei panni ovviamente di mistica uccidere un qualsiasi giocatore e usare un emote di mistica. Cioè avete pochissimo tempo a disposizione quindi dopo averlo eliminato usate subito l'emote di mistica. Potete farlo in qualsiasi modalità. Qui ci sono dei giocatori, approfittate magari del fatto che stanno tutti facendo la sfida della torta, arrivate lì e insomma fate la sfida. Tipo in questo caso guardate, molto semplice, appena esce dalla cabina lo ammazzate e usate subito questa praticamente e avete completato la sfida.